Con il nuovo DPCM, strade e piazze dove possono crearsi situazioni di assembramento potranno essere chiuse durante l'arco dell'intera giornata. Lo chiarisce il Viminale in una circolare in cui si ricordano anche le sanzioni. Per chi trasgradisce le disposizioni, le multe andranno da 400 a 1000 euro. Attraverso una serie di domande e risposte frequenti, il Governo chiarisce le restrizioni contenute nelle ultime disposizioni. Partiamo dagli spostamenti. Non si potrà uscire dal proprio comune se si risiede in una zona rossa, salvo come sempre per comprovate esigenze di lavoro, salute o necessità. Sarà possibile invece nelle regioni arancioni e gialle. Si potranno raggiungere le seconde case solo per urgenze nelle zone rosse. Scenario valido anche nelle aree arancioni, fuori dai comuni di residenza, mentre resta libera la circolazione nelle regioni gialle. Portare fuori il cane sarà sempre ovunque consentito. Per pregare, i fedeli delle zone rosse dovranno invece scegliere la chiesa più vicina a casa. La prossimità è la regola che si applica anche alla passeggiata e all'attività fisica individuale, senza limiti, a parte il distanziamento e il divieto di assembramento nelle regioni arancioni e gialle. Vietate le visite a parenti e amici nelle zone rosse sono fortemente sconsigliate nel resto del paese. Dovunque invece si dovranno lasciare i bambini dai nonni solo per cause di forza maggiore. Per i genitori separati sarà al contrario sempre possibile vedere i figli anche in zone diverse. In tutte e tre le fasce, sì ai ristoranti aperti negli hotel ma solo per gli ospiti, sì al montaggio di mobili ordinati prima del DPCM e alle riunioni di condominio, banditi su tutto il territorio nazionale, i mercatini di Natale.